Buonasera, sono Mimbo Mazzella e sono il dirigente scolastico dell'ISIS Merisabassi di Napoli, che ha al proprio interno anche il liceo musicale. E sono qui per presentarvi i lavori realizzati dai nostri ragazzi in questo ultimo periodo, un periodo estremamente difficile che ha richiesto il ricorso alla didattica a distanza. Anche se estremamente difficile, i ragazzi hanno avuto la possibilità di dimostrare tutta la loro forza di volontà e tutte le loro capacità e competenze per portare comunque avanti queste attività che ci hanno regalato delle emozioni bellissime e che spero che voi apprezzerete. Ringrazio a questo proposito i ragazzi, i docenti e le famiglie per i sacrifici e l'impegno che hanno dimostrato e profuso in questo periodo. Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti.